Allora ragazzi Un nuovo gioco dei Chillazard Che ci siamo leggermente persini Lo portiamo leggermente in ritardo Shinkansen Zero È un gioco horror ambientato su un treno Ne sono usciti tipo 7 In queste ultime settimane Dunque signori e signore Come al solito vi do un piccolo reminderino Di iscrivervi al canale, di lasciare un like Di lasciare un commento, di supportare Attivando anche la campanellina E per la notifica, mando le notifiche Non vi perdete nessun video che arriva Siete subito sul pezzo, lì, il corditino A lasciare like, a iscrivervi Se in realtà siete già iscritti, se c'è la campanellina A commentare, tutte queste cose belle Che aiutano il video a macinare views Fare più iscritti e a raggiungere Prima l'obiettivo dei 40.000 iscritti Su Youtube, sul canale 40.000 iscritti, vi droppo il video tour Invece dell'ufficio Dell'ufficio Neda Merdone Ci sono veramente un sacco di chicche Qua dentro, un sacco di cosine molto carine Che non vedo l'ora di farvi vedere A 40.000 iscritti, vi faccio vedere tutto Ultima call to action Ricordatevi che è disponibile Per ancora tutta la settimana La mia maglia del merch Ufficiale limitata Per i pre-order Non mi ricordo esattamente il giorno In cui scadono, chiudono i pre-order Però mi raccomando Se vi piace la maglia Andatela a Accattato Villa Perché costa poco È bella È unica È friscicarella Ed è limitata Per queste due settimane Quindi avete il link Praticamente ovunque Iniziamo signor Iniziamo Oh Questo è il treno Napoli Napoli Milano In quest'area Nessuna anomalia Come anomalia Ma che è un gioco d'anomalie Sette Per andare indietro Se c'è un'anomalia Vabbè Ancora con ste cazzo D'anomalie Zio P Ma Remma Canina Posso dire Posso dire Che c'è una fino veramente Fin sopra i capelli Di queste anomalie Signore c'ha un problema Così Alla testa Però non si fissano Le persone comunque Però sono fatti bene Al contrario di Un sacco di La mamma Madonna rega Poverina mamma C'ha dei problemi Dovrebbe essere un'anomalia Il bambino che me fissa Come faccio a capire Se è giusto Non ho capito Sono ritornata un'altra volta Nel vagone 7 Ma che cazzo È Naruto Anche suo fratello È venuto a giocare A giocare con chi Sono libera perché Mia sorella non si è svegliata Ho aspettato così tanto Ma non è successo Ma non è successo Ma non è successo Ma non è successo Conoscere quelle del gioco No non le conosco Cose che sono cambiate Se c'è Tornare indietro Facile È vero Carrosso del treno zero Fino alla fine della strada E oltre cabina Basta azionare i freni in cabina Va bene bambì Va bene Sfida accettata Che devo fare quindi Va davanti Non ci sono una marina Nel bagno dice Il bagno poi è sempre occupato Quindi voglio dire Ha ristano una toga Sta facendo fiente di dormire Sta guardando per terra Vabbè E dove cazzo è il bambino E dove cazzo è il bambino E dove stramenchia è il bambino Signora ha perso la bambina Torno indietro Era un fantasma Pure questo E io torno indietro fratello Quindi in teoria Dovrebbe essere cambiato qualcosa E non è cambiato comunque un cazzo Mi fa molto piacere Le luci sono più accese Che cazzo è? È un'anomalia? Torno indietro Torno indietro Scappo Torna torna Oh mio dio Sei Ok Ok Oddio oddio La signora si è pisciata addosso Oddio la signora si è pisciata addosso Non ho capito come fa Che cazzo stiamo? Sott'acqua? Vabbè Direi che è un'anomalia Quindi si torna indietro Fratello Porca merda Ma noi ci facciamo i cazzi nostri E ritorniamo indietro Numero 5 Perfetto Perfetto Secondo me sono belli stronzoni Questi Cilasart Secondo me ci ammollano delle belle chicche E credo che siano anche abbastanza palesi Te dico la verità Senti mi sembra tutto giusto O qua ho sbaglio Potrei sbagliare? Ha le valigie? Ma questa valigia c'era? Vabbè c'era dalla signorina Pesa più di lei Questa valigia Regà Io non vedo nessun'anomalia Andiamo avanti Dovremmo essere al 4 Ma pure i quadri dici? No zio Pero Non c'era la cazzo De valigia De merda Io non me la ricordavo La valigia Non me la ricordavo Zio Pero Ma guarda che cazzo Te sfiga Ma no c'è la valigia Scusa? C'è un riflesso No regà È riflesso di questo Che mi segue Te prego Zio Pero Zio Pero Zio Pero Brutta questa Ce l'ho butti In der culis Me sa però qui Al 3 Io non credo Che non ci sia Nessuna anomalia Non ci posso credere Sono già due volte Che andiamo avanti Senza niente Non ci voglio credere Dai non è possibile A questa Io sono cresciuta I buffi secondo me Is not normal Zio Non è normale Dai Eh però merda C'è è infamissima È infamissima Sta run Ma regà Giusto Siamo al 2 Ne aspetto qualcosa Capito? Perché siamo al 2 E non è successo Ancora niente Che cazzo era? Io avevo detto Che sono infami questi Ma aspettavo Che ci fosse qualcosa Ma mica un passo Che quelle mutande Che mi corre Nel vagone Signori Dio Il bambino diceva Di fare qualcosa Cazzo Allora era vera Sul serio Mi sembrava fosse 3D Ma Mamma mia Che inchiodante Che ansia Sta tipo Maronna Dio Oh lui N'ha fatto veramente Una virgola Eh Ah non era anomalia Ti sono verificate Lesioni Per Personali Oh no 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 Ho scritto è stata una lesione sui binari Loading Scusami ma anche senso Oh! Oh! Bambino Oh no 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 Si muove in fretta cos'è che non va in giro? Hai per caso pensato che questa fosse la cabina dell'autista? mi prendi in giro sapete cosa c'è la sincanzia? la carrozza della prima classe sei? sei mio fratello dove è la cabina? si è veramente un fratello un bro il figlio di grandissima troia che è tua sorella oh mio mio Dio Cristo se non c'era si torna in diametro se sbagliate tre volte arrivano i fantasmi ci vediamo dopo oh Cristo Dio e dice che praticamente adesso dobbiamo fare al contrario cioè dalla 7 andare alla 0 perché lui ha detto scusa credevi che alla 0 della cabina economy? no alla 0 dopo la business eh qua si fa duro salve prego prego passi passi pure questo si è messo seduto adesso? oh mio Dio credo che il signore non sia umano cioè ho piuttosto quest'idea piuttosto insomma però non lo so non ho mai visto niente di tutto ciò signore che serveva la mano con la valigia? ma questo è lo zio di Harry Potter? torno indietro? credo sia un'anomalia che anomalia è franco ma mi pare robocop ma non mi pare normale uno che c'ha un occhio che brilla? è al contrario che furtì? avanti se è anomalia? ah al contrario è? quindi se è anomalia devo andare avanti? greve eh se sbaglio tre volte questo non può essere parte dell'anomalia no? cioè come fai se no? come torna indietro? avanti se è anomalia mi ha detto? ma che cazzo mi state affaffa? mannaggia la mignoia vedo retta pure ma vedi? ma come non c'era anomalia? ma non è l'anomalia? come va ragazzi? scusatemi un attimo eh ragazzi? però io mi domando e dico ma come fa a non essere anomalia questo che c'ha l'occhio del robocop? com'è possibile? dimmete com'è possibile? boh vabbè ok ora è giusto fratello qui sta da dove cazzo è cicciata? la signorina del networking qui da dove è cicciata? ah ma perché c'era pure prima? c'era? ma minchia ma che cazzo l'aveva vista prima la tizia? comunque c'è anomalia quindi vado avanti ma vecchietti non c'è più dove cazzo è andato? si prega di sedersi al posto il numero del vostro posto 5 non credo che sia normale questo che cazzo è? non mi fa sedere? è un'anomalia questa cazzo dei geni comunque questi stanno sempre avanti però c'è veramente infame oddio oddio ma perché? ma perché l'uomo dronco? ha messo le radici a forza sta aspettando signorina vai più eh? no ah regà io vi dico solo che questa è l'ultima chance se sbagliamo questa siamo fottuti ok abbiamo comunque passato il vagone un pochettino toccheranno avanti perché se c'è l'anomalia bisogna andare avanti e la sto vas a posto della signorina c'è un bellissimo fiore oh ragazzi eh fratello pensi che ce la faremo a tornare vivi? pensa a tua sorella non lo so il signore è diventato totalmente un albero sto giro perfetto bello questo comunque eh bello si se siamo arrivati all'uno vuol dire che abbiamo fatto giusto altrimenti ce l'abbiamo del culo fortissimo ok 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 siamo all'uno ne manca questo e un altro non possiamo sbagliare zio però vediamo i panini panino de merda panino de merda panino de merda perfetto piedino tutto a posto ok torno indietro regà è definitivo eh uh brivido brivido felino ti prego fratello ti prego l'intruso è salito sul treno vado avanti vado avanti è qui era giusto mi sono salvato per un pelo di culo non ci credo e non c'è scritto niente vado avanti ah salve non c'è nessuno ma tutto indietro me devo fa no dai ma come non c'è più nessuno zio dai vabbè regà però è quanto è quotato che io adesso arrivare a un certo punto a forza del loop succede qualcosa dei jumps che era roba così signorina buongiorno siamo arrivati da Tokyo vedo che vede quindi il treno non si è affermato e ha fatto il giro il giro di che di peppe potrei fermare questo treno quindi perché non ci sono più loop giusti cosa è questa perché è così inquietante questa donna qualcosa che non quadra non mi ricordo non mi ricordo di essere salita su questo treno comunque secondo me è una sorta di purgatorio ho visto un ragazzo con la felpa nera con un cappuccio ho visto tuo fratello era con mio fratello era un fratello dove devi perdere la memoria sono morti totale tutti i fantasmi nel purgatorio totale ha detto il motivo per cui siamo qua trovate insieme vostro fratello e chiedete direttamente non portare devi trovare Naoki hai visto Naoki mentre venivi qua no purtroppo sono lato della prima classe sul treno non ho visto tuo fratello quando sono tornato ho visto un altro uomo anziano un uomo anziano è vero dovrebbe essere nel lato standard aspetta un attimo ti è un tema è ripensato ci c'era possibile che qualcun altro sia rinuovato qui sul pro signorina signorina mi dica chi è dovrebbe esserci qualcun altro non dovremmo fare qualcosa per questo treno rinuovato 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 c'è sta l'emo che mi imbruttisce non c'eri vado posso dirgli di andare su dove vado vado allo standard sei sicuro quindi vado avanti o tutto dovrebbe stare qua allora io ho paura di quello che ha detto perché ha detto che a una certa ci sta qualcuno che non dovrei incontrare devo premere il freno sì lo so qualcuno si è cagato addosso di brutto scoppiato il vecchio male male ma zio vero ma porco zio mamma di te e vabbè oh merda ma perché siamo così bassi ma dove stiamo in donna stiamo perché siamo così bassi ma non è che siamo ora siamo Naoki oh oh Naoki ma che ti piace un grandissimo colpo oh neefa è venuta mi è venuta tuo fratello è qui ti stavo aspettando sorella si sveglia Naoki Naoki devi ancora pochi sono felice che tu sia al sicuro fratello sto bene ora vuoi venire con me fratello che mi fai scioglia fa che non posso scegliere scusami perdonami no preferisco di no no voglio uscire ma va bene cosa non credo che dovresti venire credo di sapere cosa ci sia successo forse loro sono morti ecco perché scendono non preoccuparti andrà tutto bene non importa ora ce ne andiamo grazie mille ciao amici lasciate su sto treno questo matto sono felice che tu sia sveglio l'hai notato eri sul pavimento per fortuna un medico era sullo shinkansen l'uomo albero si trattava di una tromboembolia venosa lieve i quali economi non ho capito ma dico che cosa hai detto la cosiddetta sindrome dell'economia tra gli assi sulle parole che a me sembrava essere d'aiuto sono davvero felice per voi non è esagerato dire che questa persona mi ha salvato mi ha salvato la vita poiché i treni erano fermi non potevamo chiamare l'ambulanza quindi lo scenario peggiore era possibile l'incidente ha fermato il treno per un po' ah ma c'è stato un incidente allora l'incidente con le sioni personali è avvenuto poco quello che cazzo ha scusami ma nell'incidente sono stati coinvolti la ragazza con il ragazzo oh mio dio terribile ma è tremenda questa cosa è terribile